La Portezza Medici a Diarezzo ha aperto le sue porte alla musica indipendente con il concerto del Sigamo Ridge, una serata speciale grazie alla collaborazione con Veroni Nastro Azzurro in cui la banda Aretina ha presentato anche l'ultimo album Castaways. È uscito a dicembre 2020, quindi in piena pandemia, l'abbiamo fatto uscire un pochino per disperazione perché non ne potevamo più, abbiamo detto vai, diamo libertà a tutto questo che abbiamo scritto negli ultimi anni, solo che chiaramente era un periodo abbastanza complesso come sappiamo. Quindi ora appena c'è stata la possibilità noi stiamo uscendo a suonare il più possibile per portarlo in giro perché bisogna farlo sentire e suonarlo, insomma farlo vivere veramente perché quella poi è la dimensione principale della musica, deve rimanere quella, il live. I Sigamo Ridge da oltre dieci anni esplorano la musica fuori e dentro i confini dell'art rock e dell'art pop. La nostra sfida come musicista indipendente è quella di essere più possibili e originali, non tanto per dire di essere originali ma per creare un percorso nuovo, insomma musicale, artistico e quindi ovviamente cerchiamo di, come dire, delle alchimie nuove, con strumenti nuovi, anche inusuali per il rock, non necessariamente messe lì a forza ma anzi quando proprio sono al servizio del brano sono ben accette. Ad aprire la serata due giovani band, gli Slick Nova Family, i Pop Assemble e gli Yosh Way.